a posto via lembra ma siamo dai mani don sebastiano oggi sono il nostro amatissimo san gaetano ci dobbiamo portare al respiro capiste teniamo grazie grazie cari e allora don pino qua non si vede più nessuno sento io che faccio andiamo forza deciditi pronti andiamo perché la tua parte non spenda per noi perché il tuo amore ci liberi signore noi ti preghiamo ascoltaci signore per i responsabili delle nazioni abbiano la ferma volontà di promuovere la libertà e la giustizia noi ti preghiamo perché liberati dalle nostre colpe diventiamo uomini di perdono noi ti preghiamo ascoltaci signore per ciascuno di quelli che ci hanno chiesto di pregare per loro e che pregano per noi noi ti preghiamo la controllfirma per questo Grazie a tutti. Signora, perdonami tutti i miei peccati. 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 Signora, perdonami tutti i miei peccati.